Daniele Canali, Massa Carrara, primo pezzo dell'Italia Unita. Sì, questa è una verità storica che ci rende orgogliosi, perché dopo la cacciata degli austriaci il 27 aprile 1859, questo è il primo territorio che si aggrega allo Stato sardo, che da quel giorno, cioè dal 30 aprile 1859, de facto comincia a essere il nucleo portante dell'Italia Unita. Poi le vicende storiche che celebriamo in questi giorni le conosciamo, ci sarà bisogno ancora di tempo, ci saranno tutti i plebisciti, le altre annessioni, poi ci sarà Garibaldi con lo sbarco dei mille, ma noi siamo il primo nucleo dell'Italia Unita che festeggiamo in questi giorni ed è un orgoglio tutapuano al quale io veramente auguro altri 150 anni di buona unità.